dal punto di vista epidemiologico è che più del 95 per cento della popolazione adulta è venuta a contatto con il virus della varicella zostra e quindi cosa vuol dire vuol dire che a rischio di manifestare nel corso della sua esistenza un episodio ci sono però dei fattori predisponenti quindi categorie di soggetti che sono a maggior rischio da una parte certamente l'immunosenescenza che cosa si intende con l'immunosenescenza l'indebolimento del sistema immunitario naturale con l'età e poi altre condizioni come ad esempio alterazione dell'immunità cellulomediata quindi abbiamo ci sono pazienti più fragili che sono a maggior rischio di manifestare episodi di questo tipo fra questi anche i pazienti con malattia autoimmune e infiammatorie sia per la loro patologia di base sia per l'eventuale terapia immunosoppressiva cui spesso questi pazienti sono soggetti a disposizione abbiamo due strumenti il primo vaccino che è arrivato da noi è un vaccino vivo attenuato quindi che cosa vuol dire che il virus è stato coltivato in laboratorio è attenuato e viene somministrato in un'unica dose questo è un vaccino che conosciamo molto bene perché è molto simile seppur con quantitativi antigenici differenti a quello che noi utilizziamo contro la varicella il secondo vaccino secondo strumento che per noi rappresenta una novità nonostante sia già stato autorizzato all'emissione in commercio in america nel 2017 in europa nel 2018 è un vaccino formulato in maniera completamente diversa è un vaccino ricombinante quindi è stata selezionata una licoproteina l'antigene della parte più esterna del virus insieme a un sistema adiuvante che appunto adiuva aiuta il sistema immunitario a rispondere efficacemente alla vaccinazione negli studi pre registrativi questo è un vaccino che ha dimostrato di essere altamente efficace con un profilo di efficacia superiore al 90 per cento e viene somministrato in due dosi nei pazienti che sono in trattamento immunosoppressivo e che è più complicato l'approccio vaccinale perché in questo caso bisognerebbe se possibile interrompere la terapia immunosoppressiva per diverse settimane per procedere con la vaccinazione a formulazione di vattenuato in alcuni casi e controindicato a prescindere questo nuovo strumento che abbiamo a disposizione si inserisce nella gestione di questi pazienti molto fragili grazie a tutti